Forne a vapore Miele con VitaStim. La tecnologia che fa la differenza per mantenere inalterati colore, sapore e vitamine. Il vapore viene prodotto in un serbatoio acqua esterno al vano cottura con generatore di vapore integrato. Il galleggiante garantisce che il livello di acqua riempito sia sufficiente. L'interruttore di contatto conferma il giusto posizionamento e l'alimentazione di corrente. Il riscaldamento avviene in modo estremamente rapido perché l'acqua si scalda nella camera interna. La camera esterna funge da riserva idrica. Il vapore viene convogliato nel vano cottura dove riduce l'ossigeno che aggredisce colori, aromi e vitamine. Solo quando vi è sufficiente vapore nel vano cottura e la temperatura è stata raggiunta, inizia il tempo di cottura. Se la temperatura è sufficientemente alta, l'erogazione di vapore si interrompe. Un esempio di come Miele impiega l'energia in modo efficiente. Il vapore a contatto con gli alimenti trasmette loro calore. I liquidi che gocciolano si raccolgono nell'apposita vaschetta. Le gocce di acqua che scendono dalle pareti, sul fondo del vano cottura, sono trasformate in vapore dalla resistenza di riscaldamento. Alla fine il forno risulta pulito. La resistenza di riscaldamento si accende solo quando è coperta, così da mantenere costante il vapore nel vano cottura, per un sapore unico. La sonda termometrica garantisce la giusta temperatura di cottura nelle immediate vicinanze degli alimenti. Il vapore viene generato in base alla reale necessità. Il vapore eccedente viene mescolato all'aria fredda ambiente e fuoriesce sul davanti. Il pericolo di ustioni è escluso. Verso la fine del procedimento di cottura, il vapore viene riaspirato automaticamente. Le pietanze pronte si possono prelevare in modo sicuro senza fuoriuscita di vapore. Il risultato? Salute e gusto in forma smagliante. Grazie a tutti! Alla fine del video! Le pietanze si può prevengersi! Grazie.